Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi un video speciale, me l'avete chiesto praticamente tutti, parlaci del tuo caffè. Alcuni di voi non hanno capito che in descrizione c'è il link al mio sito, dove io vendo le macchinette, ma vendo anche il mio caffè, perché io sono un piccolo torrefattore, un torrefattore che fa piccole quantità di caffè, possibilmente d'eccellenza. Utilizzo una tecnica molto particolare di cui ve ne parlerò un'altra volta, che ho appunto ideato per fare un caffè veramente d'eccellenza. E tu ti mi avete detto, parla del tuo caffè. In realtà oggi ne voglio parlare insieme a una persona speciale per me, che mi ha accompagnato in questo percorso di nascita nel mondo del caffè, e che è poi il mio fornitore della macchina che ho scelto per sussare il caffè. Quindi ne parliamo direttamente con lui, ma visti tutti e tanti commenti, presto vi parlerò anche delle mie miscele, farò un video esclusivo per la miscela braccio, carezza e pensiero, che sono la mia miscela forte, morbida e decaffenata, e vi parlerò anche presto del mio macinato e del grani, sempre restando nel soddisfare la vostra curiosità, perché questo può essere un canale informativo sul mondo del caffè, che è il mondo della mia passione. Quindi oggi vi lascio un video un po' pesante, perché approfondiamo i termini un po' tecnici, ma soprattutto approfondiamo anche per quelli di voi che magari hanno una pasticceria o un bar, e vogliono arrivare a tostarsi il caffè nel proprio locale, che è sicuramente un qualcosa che fa fare wow ai clienti, e fa parte anche del mio mestiere, perché io a fianco aiuto tutti quelli che vogliono partire appunto a fare questo mestiere di tostare il caffè, con le mie consulenze, e anche appunto aiutando l'ingegner Napoli, con cui abbiamo fatto questa bella chiacchierata, perché do una mano appunto a quelli che vogliono partire, vogliono iniziare, passandogli le mie miscele di caffè e anche le mie ricette. Ma ora vi lascio le interviste dell'ingegner Napoli, a fine video vi lascio anche con il premio di chi è stato sorteggiato tra i commenti al mio video precedente, se volete essere voi i vincitori la prossima volta, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi a questo video, a questo canale, e commentate questo video, perché magari settimana prossima verrà sorteggiato il vostro commento. A dopo! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi parliamo di uno strumento fondamentale per il mondo del caffè, che è la tostatrice, e non potevo non parlarne con chi questa tostatrice l'ha ideata, la sviluppata e la prodotta, cioè Angelo Napoli, amministratore delegato di Ingegner Napoli EC. Ciao Angelo! Ciao Claudio! Allora, oggi volevo approfondire questo mondo, ho tolto il mio crembiule da tostatore, perché non tutti sanno che appunto io il caffè lo produco, e sono arrivato a produrlo dopo un lungo lavoro di studio, perché ovviamente tostare è una cosa veramente molto complicata e ci vuole tanto approfondimento, e ho scelto Angelo come partner tecnologico, anzi, per tutti quelli che hanno dubbi sulla macchina, curiosità, domande, o hanno voglia di acquistarlo, io poi vi lascio in descrizione la mia mail, i miei contatti, perché ovviamente chi la sceglierà tramite me avrà dei vantaggi, però questo poi ne parliamo privatamente. Oggi con Angelo invece parliamo un po' di quanto è importante il processo di tostatura e quanto è difficile arrivare a un prodotto di qualità, che però è l'obiettivo un po' di tutti. Sì, con Claudio ci siamo conosciuti, come ti ricordi, due anni fa, e due anni fa ho conosciuto una persona che aveva in mente in maniera molto chiara che tipo di business voleva sviluppare, ma non ancora ben chiaro la materia prima, il tipo di prodotto, quindi è riconcentrato su tutti gli aspetti di marketing economici che caratterizzano questo mercato. Poi nel tempo abbiamo continuato a sentirci, così avevi sviluppato anche delle idee molto chiare sul tipo di prodotto che avevi in mente da offrire ai tuoi clienti. Quindi la sfida che mi hai posto, perché diciamo di quello si è trattato, la sfida che mi hai posto è Angelo se in grado mi puoi aiutare a creare questo assortimento di prodotti che io ho in mente, è in effetti il lavoro che abbiamo fatto insieme che poi oggi diciamo è arrivato ad una conclusione di una fase e se ne apre un'altra che poi è di carattere produttivo e di mantenimento di costanza della qualità che hai cercato. Allora, diciamo che innanzitutto tu mi hai chiesto una qualità senza compromessi. Sì, e questa qualità senza compromessi come hai imparato, come hai visto, si ottiene seguendo delle regole ben precise che riguardano le curve di tostatura che devono avere determinate caratteristiche e questo per quanto riguarda l'aspetto del processo. E poi ovviamente la materia prima. Sei stato molto determinato anche su quello, quindi materia prima senza compromessi, qualità assoluta ma comprensibile dei tuoi consumatori perché nel tuo progetto fin dall'inizio, e questo l'ho apprezzato molto ed è stato forse proprio uno degli aspetti che mi ha spinto anche a dedicarmi un po' più del solito a questo tuo progetto, è stato quello che volevi quindi un prodotto che fosse immediatamente comprensibile dal consumatore, quindi qualità senza compromessi ma una qualità comprensibile che è un, diciamo, approccio che caratterizza molto anche me, il mio modo di approcciare agli affari, quindi non in maniera soltanto teorica ma anche molto pratica e molto attenta al business. Poi Angelo ti devo dire la verità, io sono arrivato a questo mondo per la passione che ho sul caffè, quindi per me partendo da una passione, io amo degustare, massaggiare ovunque, in qualsiasi città del mondo mi trovo, non vedo l'ora di prendere un buon caffè e scoprire le differenze che poi si riscontrano al palato. Spesso mi sono trovato in Italia, che per me è la parria dell'espresso, mi sono trovato a bere dei caffè veramente troppo brutti per essere veri e quindi mi è nata quella passione di dire, ma devo trovare la torrefazione giusta. Poi però per i miei gusti spesso ho trovato buoni caffè, troppo spesso non li ho trovati, ma mi mancava sempre qualcosa, perché io non sono un integralista di un prodotto che sia solo quella monorigine o sia solo quel tipo di arabica. a me piacciono tante sfumature, perché esiste per me un caffè che è un caffè del mattino, un caffè che è il caffè del dopo pranzo e quindi mi sono ritrovato e ho detto no, lo devo fare io, quindi ho studiato la materia prima, ho fatto veramente milioni di assaggi e come tu sai, perché in questi due o tre anni ti ho importunato in continuo, venendoti a trovare, facendo prove, siamo poi arrivati e ho scelto il tuo prodotto perché è quello che mi permette anche tecnologicamente di fare quel prodotto così preciso che io cercavo. Non a caso abbiamo un computer accanto alla macchina, perché per me, per quanto il caffè sia odore, tradizione e vista, lo strumento tecnologico a supporto che la tua macchina mi permette di avere è fondamentale proprio per quella precisione maniacale che io ti ho chiesto per tre anni. Sì, allora, diciamo che il tuo progetto 99caffè aveva questi presupposti di base che tu mi hai in un certo senso imposto e che sono stati, diciamo, frutto di questi due anni di studio. Quindi è per questa ragione che ti ho poi, insomma, suggerito la versione Pro, quindi della Tostabar K3, quindi una versione che è collegabile con il computer e su cui il processo può essere eseguito in maniera molto, molto minuziosa, diciamo, assolutamente avendo la possibilità di evitare gli errori e di mantenere con costanza questa qualità. Io devo dire però una cosa, devo dire che sono stato nella tua azienda dove, insomma, è un'azienda che fa tutta una serie di prodotti vicini al caffè, ma che utilizzano altre materie prime e ho apprezzato e imparato un approccio tecnologico, perché la tecnologia sicuramente aiuta, ma allo stesso tempo molto, molto umano, cioè nel senso l'assaggio, la comprensione, quindi il dimenticarsi della tecnologia e ritornare al prodotto finale, quindi è all'assaggio, è una cosa che ho apprezzato molto nella tua azienda e che fate sugli altri prodotti. Quindi questa cosa qui suggerisco a chiunque approccia questo mondo di utilizzarla sempre, cioè va bene la teoria, va bene la storia, va bene utilizzare la tecnologia, ma mai dimenticare l'assaggio. E devo ricordare, anche questa è una cosa che ha caratterizzato e ho apprezzato molto in te, ora ti sto facendo una sveglionata, ma non è per questo che lo sto dicendo, prima di entrare nel business del caffè hai assaggiato tantissimo. Ricordo che in questi due anni mi hai chiesto di continuo campioni, campioncini, ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto che cosa ci farà con tutti questi campioncini, poi ho capito che cosa stava facendo Claudio. Sì, e poi secondo me l'assaggio, come dici tu, è la chiave di tutto, cioè al di là del saper tostare, alcune volte vedo dei miei colleghi, io ho tanti amici torrefattori, che mi fa piacere affiancare, per capire sempre dei segreti, però ognuno ha il suo stile. Però secondo me il punto di arrivo è comune a tutti, alla fine dobbiamo estrarre un espresso in tazza, degustarlo, e soprattutto riuscire a fare quelle degustazioni che io chiamo alla cieca, cioè nel senso bisogna far assaggiare anche agli altri, non sempre solo secondo il proprio gusto personale, perché io probabilmente farei delle miscele che per la maggior parte non piacciono, e quindi bisogna anche cercare un obiettivo di un prodotto che piaccia veramente sul proprio territorio italiano, che è appunto il classico espresso, e poi magari declinarlo con delle varianti. Io per esempio faccio una miscela molto corposa, molto cremosa, che è l'abbraccio, ma faccio anche miscele 100% arabica. Ovviamente con la giusta formazione si riesce a trasmettere al consumatore, sono due prodotti totalmente diversi, buoni entrambi, ma con due sfaccettature opposte. Sì, in effetti insieme a te, qui mi ricollego al punto da cui siamo partiti, quindi un approccio teorico, un approccio che in alcuni casi possiamo definire scientifico, ma senza dimenticare il business, quindi senza dimenticare il gradimento da parte del consumatore finale. Ed è anche per questo motivo che insieme a te abbiamo studiato un profilo di tostatura dedicato per l'espresso e un profilo di tostatura dedicato per la moca e differenziati per miscela, come questo, è ovvio che accada, o meglio, è ovvio che si debba fare, ma vi posso garantire che non è sicuramente la consuetudie nel panorama dei produttori nazionali e non soltanto, anche fuori, quindi di differenziare per miscela e per sistema di estrazione il grado di tostatura, ma meglio ancora il profilo di tostatura. Infatti noi sul canale spesso ci focalizziamo su questi aspetti teorici, cioè la capacità di saper riconoscere le differenze, perché quando compriamo la classica mattonella a 250 grammi al supermercato, quello è uno standard e nessuno ti dice se è per moca, se è per espesso, non ti indica la tostatura e la provenienza. Diciamo che noi piccoli torrefattori dobbiamo essere in grado di veicolare queste sfaccettature per rendere il consumatore consapevole. Una volta il consumatore è consapevole a una facilità di scelta secondo il proprio gusto. Chi ama una tostatura più chiara troverà una tostatura chiara che rilascia dei flavor diversi, degli aromi diversi, chi invece ama l'espresso ipercorposo potrà andare su una tostatura più scura, un espresso più forte e trovarselo poi al gusto preferito, diciamo. Sì, e adesso non voglio anticipare niente ai tuoi followers in merito alla linea di prodotti che hai creato e che a breve porterai sul mercato, però ecco, credo che l'approccio vincente sia quello di dire la mia è una qualità senza compromessi dal punto di vista delle materie prime utilizzate ma differenziata per profili di tostatura al fine di incontrare il gusto di consumatori con abitudini di consumo e gusti completamente diversi uno dall'altro. Quindi quello è un buon approccio, cioè un approccio come dire orizzontale al mercato e tutto quanto posizionato in alto piuttosto che verticale cioè dal prodotto primo prezzo quindi che è un prodotto inevitabilmente di bassa qualità fino al prodotto premium che è un prodotto che possono per mettersi in pochi e magari non viene compreso. Invece no, un approccio orizzontale dove mi differenzio per il processo, per il modo in cui preparo il mio prodotto ma la qualità dal primo all'ultimo è senza compromessi. Sì, e poi diciamo che mi piaceva anche e poi tutto il lavoro di sviluppo abbiamo fatto sulle miscele mi piaceva anche andare oltre quella banalizzazione dell'espresso che talvolta avviene. Cioè secondo me non ci può essere una miscela per tutti perché ognuno deve rispettare il proprio gusto personale quindi la creazione di più miscele la creazione di profili di tostatura diversa che poi portano a tostature chiare, scure e a tante miscele sono tanti parametri che stanno dietro a un concetto così facile che poi è quello di un caffè invece facile non è perché come abbiamo detto si parte dalle materie prime che è già una selezione molto importante da una miscelazione di queste materie prime dalla tostatura che sembra un processo banale anzi forse grazie alla tua macchina col fatto che è automatica e ha dei profili testatura che si possono configurare e poi anzi tutti quelli che vorranno provarla una mano gliela diamo volentieri a te a configurarla e quindi sembra un processo automatico invece dietro quell'automatismo c'è tantissimo studio che poi porta a un prodotto finito che è il caffè in grani tostato che però poi subisce altri processi fondamentali che sono la macinatura che è determinante per la riuscita di un espresso e poi l'estrazione che sia con Moka o che in macchina che sono altri step che possono fare anche danni perché un'ottima materia prima tostata in maniera eccellente se è macinata e estratta con una macchina sbagliata può fare un disastro di caffè giusto? sì lì poi entriamo in un altro campo che è quello appunto dell'estrazione della macinatura in particolare per l'espresso visto che qui abbiamo una macchina per l'espresso c'è stato nell'ultimo anno del 2020 una inversione parziale inversione di tendenza del mercato con un parziale ritorno al caffè estratto con la Moka a casa e questa cosa qui sicuramente per gli operatori sul mercato va accolta questa opportunità dove secondo quello che stiamo vedendo dai nostri clienti insomma su tutto il territorio nazionale ma non soltanto vediamo che è un modo anche per valorizzare piccoli marchi piccoli come dimensioni ma grandi come passione come storia che c'è dietro e sicuramente come prodotto finale che riescono ad entrare in un mercato che è appunto quello del macinato Moka dove un prodotto di qualità è sicuramente più facile che venga valorizzato sicuramente rispetto all'industria e poi quello che io suggerisco sempre è di farsi accompagnare cioè quando si fa al supermercato si fa una scelta scaffale che è figlia del brand o di una nostra idea ma se si entri in una piccola torrefazione che sia la mia o che sia un'altra piccola torrefazione lì ci deve essere una persona formata e ti sa anche consigliare torniamo al discorso dei gusti sicuramente una piccola torrefazione che fa più miscele sicuramente ti saprà consigliare per il tuo tipo di estrazione che sia Moka o Macchinetta Espresso e quindi lì c'è quell'incontro che secondo me è proprio sublime tra la nostra creatività italiana nelle miscele nei vari tipi di tostatura e l'incontro anche dei gusti del cliente e poi fa quel caffè eccellente cioè io dico sempre quando uno si approccia al mio caffè che sia la miscela braccio carezza decaffenato 100% arabica non può scegliere dalla ceca perché sono miscele fortemente caratterizzate cioè ognuna ha una sua caratteristica che riscontra un certo tipo di gusto quindi è bello secondo me andare nelle piccole torrefazioni ripeto non è una sponsorizzazione la mia ognuno nella propria provincia una piccola torrefazione dove andare e dove farsi raccontare il caffè e sceglierlo insieme al torrefattore io mi auguro che dopo quello che hai detto non ti troverai l'azienda invasa dei tuoi followers che vengono a trovarti quindi che decidono e ti chiedono di tostare il caffè con te perché questo ti comporterebbe dei problemi di assembramento ma anche di intralcio al lavoro ma che almeno ti porti dei curiosi degli appassionati che possano condividere con te questa passione che ti sta tanto impegnando in questo progetto che sei stato in grado di realizzare e che ovviamente ti auguro possa crescere sempre di più e sempre nella maniera giusta che hai intrapreso io direi che la possiamo chiudere quindi faccio il saluto finale ma sì dai ok allora vi ringrazio per averci visto come sempre trovate i miei riferimenti come contattarmi la mia mail in descrizione e nei commenti per chiunque abbia delle domande per l'ingegner Napoli sulla sua macchina su tutto il mondo della tostatura dove lui sicuramente è un maestro non esitare a scriverli nei commenti e con questo vi saluto e alla prossima bene spero che questa intervista non vi sia risultato un po' troppo pesante era un'intervista abbastanza tecnica ovviamente chi vorrà tostarsi il proprio caffè nel proprio locale ci avrà preso tanti spunti e quelli li rimando appunto a contattarmi sarò lieto di dargli il mio supporto e come vi dicevo la mia consulenza sia sotto il profilo delle miscele sia sotto il profilo delle ricette per arrivare a tostare un caffè veramente d'eccellenza ora vi dico chi ha vinto il premio di settimana scorsa lasciate i commenti e commentate anche voi potreste vincere voi settimana prossima un saluto e alla prossima vediamo chi ha vinto di settimana scorsa ha vinto Pasquale di Filippo complimenti Pasquale scrivimi nella mail che trovo in descrizione a questo video e scrivimi in macchinetta il tuo indirizzo il tuo nome di telefono del corriere ti invierò una degustazione omaggio dei miei caffè grazie a tutti